La Guardia di Finanza di Salerno ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 230.000 euro da parte di una società dedita alla posa in opera della fibra ottica. È stato disposto il sequestro di beni per più di 50.000 euro, emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore di Agropoli. Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa attività fiscale eseguita dai finanzieri della compagnia di Agropoli nei confronti di una società cilentana. I militari agropolesi hanno scoperto che l'impresa aveva rilevato in contabilità costi per il noleggio di escavatori fatturati da una società modenese che, dagli accertamenti svolti, è risultata priva di una sede, di una struttura logistica e soprattutto di macchine da movimento terra. Le indagini finanziarie hanno poi confermato l'assoluta fittizietà dei rapporti commerciali tra le due società e la totale assenza di corrispettivi per il presunto noleggio degli escavatori. Sono stati sequestrati depositi a risparmio nominativi, carte di credito, fondi di investimento ed otto veicoli nella disponibilità del titolare dell'azienda cilentana, in misura pari all'imposta evasa.